Testo migliorabile con una discussione approfondita su alcuni passaggi. Certo la Camera non ratificherà il testo del Senato, ma le modifiche che eventualmente scaturiranno dal lavoro di Commissione e di Aula andranno nel senso della riforma disegnata dal Senato per migliorare alcuni nodi che ovviamente meritano un maggiore approfondimento. Un grande clima in Commissione, lavoro approfondito, gruppi tesi a capire e a far capire nella prospettiva di quelle che sono le diverse posizioni.